Dammi da bere. La misericordia è più grande del peccato. In questa terza domenica di quaresimo, anche a noi come coppia, come genitori e a tutti quanti Gesù chiede da bere. Lui prende l'iniziativa di entrare nella nostra quotidianità, nelle nostre famiglie. È il peccato, la miseria umana che brucia il cuore di Gesù. Lui ha sete di salvare. Lui che conosce tutto di noi, il nostro desiderio infinito di gioia, tutti i nostri affanni. Vuole farsi nostro compagno di viaggio, senza giudicarci, senza pregiudizi, perché Lui ci ama per primo e da sempre. Gesù vuole donarci la sua acqua di vita eterna, che sgorga dal suo cuore misericordioso. Vuole colmare la nostra sete di felicità. Non accontentiamoci di dissetarci con l'acqua dei tanti pozzi che il mondo oggi ci offre a buon mercato. Riscopriamo l'importanza e il senso della nostra vita cristiana iniziata con l'acqua del battesimo. E testimoniamo con coraggio, senza vergogna, la gioia dell'incontro con Gesù, che è sempre dono di grazia. Lasciamo le nostre anfore, le nostre apparenti e fimere sicurezze e corriamo anche noi, come la Samaritana, a raccontare le cose meravigliose che il Signore sa fare nel nostro cuore, se Gli permettiamo di entrare nella nostra vita. Solo Lui è fonte d'acqua viva. Buon cammino di conversione a tutti!